Per il ragazzo sta a 2.5 2.4 Come al solito se non c'è una nuvoletta che rompe le palle Concerto del primo maggio E' vero Un anno lo metti i piedi Come? Sì 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 Può essere Come dice il detto Barbara Esatto E' vero E' vero Ho già aperto E' un po' di fare il stato giorno No dai Salute al rifugio K2000 No dai Sì, mamì! Sì Ah lo senti anche te allora E qualche pianta che sa questo odore Hi Babi non ti ferma nessuno vuoi giù l'ha più bello si no ma poi ancora 3 quarti d'ora io non ce la faccio quindi visto che non abbiamo nell'animamento nel tempo e proprio il massimo decidiamo di che l'antissima è più che sufficiente giusto per noi ci hanno superato tutti ma noi siamo più da più escursionisti da mille metri si arriva arriviamo ai 2000 a mettere è troppo per noi per me è no esatto no scendere si salire dopo non trascorre è questa e quindi barbara occhio dopo costante dopo riunione tra me e te abbiamo deciso che il monte algerere troppo algera troppo lungo e troppo difficile per noi che siete principiati esatto a bambi a bambi insieme a bambi ah 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 ahάν guarda Annette Annette sui monti cosa dici Annette? eh? ... ... ... ... Grazie.